Beh certo, fuori tempo, comunque mi pare che mandare un avviso a tempo scaduto non è una grande cortesia che si fa al cittadino, l'avviso andava mandato prima della scadenza, è arrivata dopo la scadenza e l'avviso dimora e non mi pare un buon trattamento nei confronti degli ambulanti che giustamente si sono ribellati, si sono lamentati, perché non più di un mese fa c'è stato un incontro anche televisivo con i rappresentanti dei commercianti ambulanti ed era stato riferito di un disagio notevole che c'è dal punto di vista economico, la condizione degli ambulanti ma anche dei fissi non è quella proprio dei momenti migliori. Il mercato a Sala Consiglina Langue registra sempre meno presenze e il sindaco era stato richiesto formalmente dalle associazioni di un incontro per tentare di risolvere il problema, di rilanciare il mercato, di vedere dove e come farlo e si era stato richiesto anche un'attenzione particolare nel chiedere la TOSAP con una rateizzazione. Per tutta risposta non solo i commercianti ambulanti non sono stati convocati e non sono stati sentiti eppure è passato più di un mese, ma è arrivata questa comunicazione che chiede il pagamento immediato dell'intera SOSAP e invece di chiederlo prima della scadenza viene richiesta notificando la nota il 3 febbraio quando il termine scadeva il 31 gennaio, quando meno c'è una sconnessione, c'è una cattiva gestione dell'argomento, ma quello che va rimarcato e io sono solidale con i commercianti ambulanti e con le categorie che rappresentano, le associazioni che rappresentano gli ambulanti sul fatto che c'è una disattenzione, c'è un'assoluta mancanza di volontà del sindaco dell'amministrazione a convocare gli ambulanti stessi, i commercianti ambulanti e vedere come risolvere il problema del mercato, come risolvere in questo momento di grave crisi, se non usciamo da questa crisi ma l'intera economia di un paese viene toccata. Io ricordo che il mercato del giovedì a Sala Consilina era il mercato che teneva in piedi l'intera settimana, lavoravano sia gli ambulanti ma anche i fissi, la gente affluiva non solo a Sala Consilina ma anche dai paesi vicini, oggi tutto questo non avviene più. Avvocato, quali potrebbero essere le proposte per venire incontro ai commercianti ambulanti? Innanzitutto ascoltiamo i commercianti ambulanti, hanno chiesto di delocalizzare di nuovo il mercato, hanno chiesto di riportarlo dove era oppure in altra zona o comunque dare delle risposte che portino a fluenza, un mercato senza gente non serve a nessuno, non è che può esserci un mercato dove non ci va la gente, è stato invocato un problema di sicurezza, io dico che anche laddove oggi è il mercato non c'è sicurezza, giovedì scorso una persona si è infortunata scivolando lungo la riscesa ripida perché per accedere al mercato bisogna affrontare una discesa molto ripida, le persone anziane hanno difficoltà, sicuramente quando piove andare lì, ci sono posti del mercato attualmente che non sono raggiungibili con l'ambulanza così come era stato lamentato quando il mercato era sulla nazionale. Bisogna studiarle le cose, ma innanzitutto bisogna riunire gli ambulanti, le persone che sono interessati, io dico anche insieme ai commercianti fissi, riceverle perché è un sindaco che ha una richiesta di incontro e non risponde, è anche un atto di cortesia, di educazione nei confronti dei cittadini, innanzitutto dare questa disponibilità e dare la disponibilità a modificare le cose, non è che tutto resta tal quale perché così ho deciso, innanzitutto deve decidere il Consiglio Comunale che è l'unico organo competente per l'occupazione di suolo pubblico e poi per quanto riguarda la tossa si poteva anche avvisare prima della scadenza e non a scadenza avvenuta e quantomeno si poteva anche accedere alla loro richiesta di una dilazione vista la grave difficoltà in cui oggi versa il settore. Lo fanno per i mutui, non si capisce perché per la tossa però si poteva prevedere almeno due rate, una rata unica e poi avvisare i cittadini prima della scadenza e non a scadenza avvenuta.